Segretario della CNA di Pesero Urbino ha ricoperto l'incarico direttivo dell'Associazione per dieci anni, dopo essere stato responsabile sindacale dei settori meccanica, nautica, mobile e internazionalizzazione e aver ideato e diretto per undici anni la manifestazione CNA Idei Moda. Moreno Bordoni, 51 anni, laureato in Scienze Politiche, ora sale di grado. Infatti è stato eletto segretario della CNA delle Marche, succede nell'incarico a Autello Gregorini, nominato l'8 dicembre scorso segretario generale nazionale dell'Associazione. Dopo 26 anni in confederazione andrà a ricoprire un ruolo molto delicato. Come ha preso la notizia e quali sono gli obiettivi imminenti? 26 anni sono un percorso importante che ho fatto alla CNA di Pesero Urbino e non si dimenticano in un'amen, però effettivamente aver avuto dalla direzione regionale l'unanimità di consensi, quindi vuol dire che tutte e cinque le province con i presidenti, le loro presidenze, le direzioni hanno voluto onorarmi di questo grande ruolo di segretario regionale della CNA delle Marche e sinceramente mi riempie da un lato di orgoglio e da un lato mi dà anche la forza di intraprendere questa nuova sfida totalizzante con tanta grinta e con tanta voglia di fare. Ci sono obiettivi importanti perché il momento economico è un momento delicato e le imprese hanno sicuramente bisogno di una grande associazione e di una guida sicura. Bordoni, attualmente presidente di Tecne, l'azienda speciale della Camera di Commercio per i settori mobile e meccanica, arriva alla CNA delle Marche dopo una lunga militanza nel mondo della rappresentanza delle imprese anche per quanto riguarda la loro capacità di lavorare sui mercati internazionali. Ed ora con il presidente Paolo Silenzi guiderà un'associazione che conta 18.000 imprese associate, 16.000 pensionati con oltre 50 sedi in tutto il territorio regionale e 400 dipendenti. Invece la Regione Marche su che cosa dovrebbe puntare secondo lei? Quali sono le necessità? Ma ci sono in questo momento delle cose molto molto importanti, soprattutto il PNRR, ci sono bandi che vanno scaricati a terra, nessuna risorsa deve essere lasciata lì, bisogna fare del tutto per utilizzarle al meglio e permettere nelle condizioni gli imprenditori e poi di fare il resto del lavoro. Questa è la cosa principale. Poi c'è il grande tema delle infrastrutture. La nostra Regione è da sempre una Regione che è carente di infrastrutture importanti, c'è il dibattito dell'arretramento dell'A14 a nord e della terza corsia a sud, si sta parlando tantissimo in questi ultimi periodi anche delle linee ferroviarie, ci sono dei grandi temi che sono ormai diventati impellenti. Le Marche non possono diventare un hub interessante a livello mondiale se non vengono supportate dalle infrastrutture. Quindi i temi ce ne sono, saremo subito in campo al fianco delle istituzioni, perché la CNA è abituata sì a chiedere, a fare istanze, ma sempre con una proposta vera, seria e costruttiva al fianco. Grazie.